Situazione al limite al Grande Fratello, con Jessica protagonista in negativo per ciò che starebbe subendo da alcuni concorrenti. La denuncia è arrivata tramite i social da alcuni telespettatori, stanchi di assistere ad immagini che non fanno piacere a nessuno. E sono state invocate delle sanzioni nei confronti soprattutto di una delle geffine del programma. Non sappiamo se il Grande Fratello stia già analizzando i filmati per prendere eventualmente anche drastiche decisioni nella puntata del 30 settembre. Ma sta di fatto che Jessica sarebbe vittima di episodi decisamente sgradevoli. Ad attaccarla sarebbero una compagna di avventure eppure un altro concorrente, complice di queste offese. Dunque, al Grande Fratello inizialmente questa telespettatrice ha usato il social network decimo per spiegare cosa ha subito Jessica in quest'ultimo periodo. Jessica insultata e presa in giro. Jessica che viene definita pazza bipolare. Jessica che viene isolata. Spero che il Grande Fratello prenda seri provvedimenti perché questa donna sta subendo le peggiori cose. E poi sono stati fatti i nomi dei geffini che sarebbero contro di lei. La stessa utente, dopo aver letto altri commenti simili ai suoi, ha rincarato la dose. Gli anni scorsi persone che dicevano cose come mentalmente instabile, ossessionata, bipolare, venivano punite dal GF. Quest'anno che è stata Giulia ad usare questi termini la passerà liscia? Spero di no perché lei e Lorenzo la meritano. E questo potrebbe essere uno dei temi predominati dell'appuntamento in diretta con Alfonso Signorini, che sarà supportato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, oltre all'esperta social Rebecca Staffelli.